10 giorni di teatro, danza e musica alla scoperta della contemporaneità dello spettacolo dal vivo. Dal 21 febbraio al 1 marzo, VIE Festival a Modena, Bologna, Cesena, Carpi e Spilamberto. Spettacoli, incontri, conferenze, installazioni video performative e letture. Un'occasione unica per conoscere le manifestazioni del territorio teatrale valorizzandone i protagonisti. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.